Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Artigliver, ci sono qui in questo nuovo commentary. Oggi sono qui per parlare un pochino di piccole news che ci sono più che altro da parte della Treyarch. Prima cosa molto importante, hanno cambiato la loro immagine e profilo e abbiamo questo perk. Capiamo che è un perk, dà sempre la forma che è fatta a pentagono. E abbiamo su questo sfondo, che non ho ben capito se è la first room di Classified, almeno è quello che sembra, perché sembra una stanza appunto con tutti i tavoli, tutti i gran fogli, come all'inizio appunto sia di Five che di Classified, però un pochino diversa, un pochino strana, per cui poi adesso teniamo buono il fatto che sia Classified e magari che non è già la mappa nuova, che quello potrebbe essere abbastanza interessante. In il perk però vediamo appunto questo tizio con in mano un coltello a bow e con tutto intorno un'aurea blu che taglia la testa a uno zombie. Prima cosa che vado a pensare è che questo perk possa essere un pochino come l'Elisir o anche la Cable Gum di Black Ops 3, il filo di spada, quindi che aumenti il danno corpo a corpo. Questo però sarebbe un pochino troppo banale, conoscendo la Treyarch faranno qualcosa di un pochino più specifico magari, o comunque con qualche effetto molto più particolare, per cui sicuramente un danno corpo a corpo aumentato che comunque sarebbe figo perché ci starebbe alla fine anche se abbiamo appunto già filo di spada come l'Elisir nel gioco, però forse ci sarà qualche altro effetto particolare magari appunto, o degli edgehawks per il fatto che proprio abbiamo uno zombie con la testa che salta via, o qualche altro effetto particolare che ci farà pensare che questo perk possa essere utilizzabile perché sappiamo che i Black Ops 4 hanno voluto spingere molto su un nuovo sistema di perk, ce ne sono alcuni molto interessanti, molto divertenti, ma abbiamo sempre incontrato il problema che alcuni perk sono praticamente obbligatori, Testugine, Ultimo Desiderio, Staminup, sono veramente perk necessari per fare una partita decente, o comunque giocare abbastanza bene, non per forza un record ma anche per dire un Gauntlet, secondo me Staminup è fondamentale, Testugine è molto comodo, e anche altri perk alla fine c'è una buona scelta sicuramente perché i perk sono tanti, ma alcuni sono veramente necessari per giocare abbastanza bene, per cui vediamo che cosa si inventeranno per farci dire, sia proviamo questo perk che è nuovo ovviamente, quindi vogliamo vedere come funziona e cosa fa, ma anche dire possiamo usare le prossime partite perché ha questo effetto che mi interessa o che può servire una partita. L'altra cosa interessante è che festeggiamo il nostro San Valentino dal 14 al 19 nerdando su Zombie, sì, staremo chiusi in casa a fare i livelli perché ci sono doppi XP, doppi XP per le armi sia per multi che per zombie, doppio plasma e doppi meriti su Blackout, per cui io vedrò di recuperare il fatto che queste erano i 3 giorni quando c'erano i 115 giorni di Black Ops 4, dal 15 al 18 gennaio non ho potuto giocare perché ero impegnato a studiare, mentre questa volta qua ho un pochino più di tempo, quindi vedrò di recuperare un pochino a fare qualche livello. Come al solito dal 14 alle 19 di sera per noi inizierà questo evento, e finirà il 19 sempre febbraio sempre alle 19 di sera, per cui ricordatevi sempre queste date e questi orari. Inoltre questa settimana ci sarà qualche preview per la prossima operazione. Infatti quello che vado a pensare è che, dato che tra meno di settimane o circa 6 giorni finisce l'operazione Absolute Zero su PS4, poi finirà anche su Xbox One e PC, sarà il momento giusto per sia introdurre questo perk con una nuova operazione, se magari inizierà a parlare del nuovo DLC, o addirittura a dropparlo con una nuova operazione o circa in quel periodo, o farci vedere un trailer. Sono già passati due mesi da quando è uscito il DLC 1, erano i primi di dicembre, tipo il 10 o il 12 dicembre o qualcosa del genere, per cui sarebbe caso dopo due mesi di farci uscire un altro DLC o darci qualche altra piccola news. Non so se faranno come Dead of the Night, quindi la dropperanno a bomba senza nessun trailer, se vogliono farlo vogliono comunque stare attenti di nuovo al problema a Australia, ovvero non fateci la mappa 12 ore prima per gli australiani che la giocano e tutti quanti se ne accorgono, perché altrimenti poi l'effetto sorpresa non c'è. Per cui, se di quello stanno un po' inattenti e lo organizzano meglio, secondo me può funzionare. So che a molte persone dà facile il fatto che non ci sia un trailer, perché se un trailer è fatto bene crea molto hype, su questo sono molto d'accordo, e comunque voglio vedere una mappa nuova alla fine, quello che ci interessa a tutti quanti. Per cui sta per essere giunto un nuovo perk, di questo sono molto contento, Gesù Mundell ne aveva già parlato ai tempi nel blog, e spero che comunque nel tempo ne giocano veramente tanti, stati veloci appunto ad annunciare, più o meno annunciare alla fine, perché ho fatto vedere un'immagine soltanto di questo nuovo perk, e spero che ne giocano altri, non più che altro perché ce ne sia bisogno, perché su Black Ops 4 ce ne sono veramente tanti, ma voglio vedere comunque cose nuove, perché ai tempi di Black Ops 3 mi lamentai del fatto che ci fosse solo il Widows come perk nuovo, che era molto forte, molto figo secondo me, ma alla fine in tutte le mappe c'era sempre soltanto quei nuovi perk, quindi dicevo, sì, c'è bisogno però qualcosa di diverso. Su Black Ops 4 l'hanno fatto, ma devono fare anche dei perk che siano utilizzabili. Testuggine è un ottimo esempio, anche con l'ultimo desiderio, però anche molti dei perk come Stamina, Updash, Ottervive, ovviamente sono vecchie repliche. Loro hanno voluto evitare cose come il Jug, Spiccola, il Double, per fare perk nuovi, quindi fate perk nuovi, fateli fatti molto bene, così possiamo usare tutti quanti, e siamo contenti di questo nuovo sistema dei perk. A me comunque piace e mi interessa, però so che molta gente preferirà il vecchio sistema, con un po' più nostalgia, anche se vado su un vecchio code comunque un pochino rimpiango, magari un Jug, una Speed Call, un Double Tap. Però se sanno fare i perk veramente fichi su questo Black Ops 4 può funzionare davvero bene. Inoltre appunto un altro periodo di punti doppi fa sempre bene, soprattutto se sia punti normali, punti per le armi, plasma doppio alla fine è quel che è, perché in doppio di 2000 non lo spendo mai, sto aspettando degli slot decenti, degli spin comunque abbastanza carini, perché ne hanno aggiunti di recente, ma non ho avuto quello da 15, che è quello che mi interessa, quindi per adesso lo sto accumulando, ma gli XP doppi tanta roba. Ecco ragazzi, fatemi sapere come al solito voi cosa ne pensate, cosa vi aspettate da questo perk, e se ne renderete un pochino per questi livelli, vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento, iscrivervi al canale, e non ci vediamo ad un prossimo video. Un abbraccio, ala.